Un saluto a tutti gli ascoltatori di Cube Radio da Avamposto 31, la rubrica che tutte le settimane quotidianamente vi intrattiene e vi informa sul mondo del fumetto, della cultura pop e di tutto quanto ci gira attorno. È di questi giorni purtroppo la notizia della scomparsa di un grandissimo personaggio del mondo del fumetto, stiamo parlando di Guillermo Mordillo Menendez, per tutti Mordillo, e abbiamo l'occasione di parlare e di ricordare la sua figura con Fausto Umero che è un noto ristoratore appassionato di fumetti ma soprattutto animatore in una manifestazione molto importante che è Rappallunia. Ciao Fausto e benvenuto in trasmissione. Ciao a tutti, grazie di avermi invitato. Grazie a te e ringraziamo anche pubblicamente Giovanni Namias che ha facilitato questo nostro incontro, ma in questi giorni quando la notizia purtroppo della scomparsa di Mordillo si è diffusa è stato un coro di, come al solito spesso accade soprattutto nei social, di rammarico e di tristezza, con i soliti commenti tipo riposi in pace, però sono pochi quelli che possono dire di aver avuto un contatto diretto e personale con questo grande personaggio. Tu sei uno di questi e ti abbiamo chiamato proprio perché tu ti possa tratteggiare qualcosa di più sul personaggio. Guarda, io di Mordillo vorrei sottolineare prima di tutto l'aspetto umano, l'aspetto umano duplice, cioè quello che lui aveva verso le persone e quello che le persone avevano verso di lui. Lui privilegiava molto nel suo modo di pensare e poi conseguentemente anche nella sua arte, privilegiava molto il rapporto con le persone. Lui mi diceva spesso, tutte le volte che ci siamo incontrati, insomma non pochissime negli ultimi vent'anni, lui mi diceva sempre che lui si muove per incontrare le persone, lui disegna soprattutto per inserire le persone. Le persone nei suoi disegni sono sempre centrali, magari piccole, non colorate, mentre tutto il suo universo è coloratissimo, ma l'umanità per lui è sempre stata importante, così come sono sempre stati importantissimi per lui gli animali. Sì, io devo dire che prendendo spunto da quello che ci stai dicendo, io pur avendo avuto la fortuna di conoscere tantissimi autori del mondo del fumetto, è una cosa che ancora oggi mi riempie di gioia perché forse è una delle cose belle dell'aspetto di fare questo lavoro, nel senso quello di poi metterti in contatto con magari personaggi che fino a qualche tempo prima avevi solo letto, è una cosa bellissima, non ho avuto come te l'occasione di conoscere personalmente Mordillo. Eppure devo dire che dalla sua opera, quello che tu dici emerge in maniera così netta, così forte, così colorata, no? Cioè questa umanità alle volte parcellizzata in mille personaggi, alla volte concentrata in un singolo soggetto, alle volte paradossale, così, no? Spesso trovi delle critiche anche molto forti, ma anche all'essere umano, a certe sue superficialità o cattiverie o proprio modi sbagliati di comportamento perché lui era molto attento a questo. Ebbè, ma emerge in maniera chiarissima, infatti devo dire, noi abbiamo inserito non a caso questo nostro intervento nella parte della nostra rubrica in cui parliamo di fenomeni del web e cose del genere. Perché? Perché Mordillo, dall'avvento di internet in poi, vuoi per questa sua visione del mondo e delle cose, vuoi per il colore che riusciva a dare e con colore intendo un po' tutto, no? Cioè non solo la colorazione, ma proprio il sapore che dava alle sue immagini e questa capacità di cogliere con un'estrema sintesi tematiche anche molto profonde dell'umanità è diventato in realtà una star del web, nel senso che basta banalmente digitare il suo nome o caricare una sua immagine e si aprono centinaia, se non migliaia di siti, di citazioni, eccetera. Sai però, io ho notato una cosa, che se io fermo cento persone in una strada, io percorro una strada qualsiasi, di qualsiasi città italiana e mi metto, mi segno sul taccuino persona numero uno, persona numero due, eccetera. Ogni persona dico, scusa, hai mai sentito nominare Mordiglio. Allora io non ho basi scientifiche, statistiche diciamo così per poter valutare questo aspetto. Però ho dei fortissimi sospetti che se fermo cento persone ce ne saranno fra 80 e 90 che dicono no, perché, chi è? Se poi io faccio la stessa strada e fermo altre cento persone, invece di dirgli conosci Mordiglio, gli faccio vedere questo disegno, hai mai visto questo disegno, un disegno di questo tipo, con questo stile, con questi colori, con questi personaggi? Ecco, secondo me si ribalta, la conta si ribalta. Sì, sono assolutamente d'accordo con te. Tra l'altro il lavoro di Mordiglio ha avuto una diffusione talmente trasversale, cioè dai fumetti al cartoni animati, bellissimi peraltro, all'utilizzo ad esempio al merchandising, per cui una grandissima diffusione su diari, su oggetti di ogni genere, forse proprio perché il suo disegno già di per sé stesso si prestava a questo tipo di uso. Questo gli ha dato davvero una popolarità che purtroppo, va detto, in occasione della sua scomparsa probabilmente si è manifestata in tutta la sua grandezza, non trovi? Eh sì, senz'altro, senz'altro. Io ho un po' guardato i quotidiani, non solo italiani, anche in giro in altri paesi, per così, per curiosità. Li seguo un pochino sempre, in modo superficiale intendiamoci, però ce li ho tutti nei miei bookmark e quindi li seguo. E la notizia era riportata in un sacco di posti proprio. Perché ti devo dire che io mi sento proprio privilegiato di averlo conosciuto perché era una persona veramente squisita. L'ho conosciuto nel, mi sembra, nel 95, quando in occasione del premio Ujanku, quello che noi diamo ogni anno, qui contestualmente alla mostra di Rapallugna, quell'anno i premiati erano Mordiglio e Ugo Pratt. Hai detto niente. Eh, ho detto niente. E ho detto niente. Voi siete di Venezia, quindi Ugo Pratt ce l'avete... È un patrimonio locale, ma è un matrimonio mondiale, prima di tutto, devo dire. È un matrimonio... è come la gondola, però. Certo che sì. Sì. E avevo loro due. Quindi, però, diciamo, Pratt per carità, è uno... Un gigante. Un gigante, proprio un gigante. Anche fisicamente, visto che era un tipo molto ben messo, diciamo. Però, però, vedi, questo non è per Mordiglio, per Pratt si Mordiglio, no. No, no, no. È semplicemente che, conoscendo Mordiglio, tra di noi è in qualche modo scattata una scintilla. Lui mi ha detto delle parole bellissime quella sera. Mi ha detto che apprezzava l'umanità che c'era nel mio posto, tra le persone della mia famiglia, tra i miei collaboratori, tra me e gli ospiti di quella serata. E mi ha detto, io ho sentito, me lo ricordo, perché io ero emozionato e stavo zitto, non avevo il coraggio di chiedere niente. Mentre invece lui ha notato, per fortuna, questa cosa, ha scoccato una scintilla e mi ha detto io tornerò a trovarti, perché qui ho sentito un pochino di casa. E così è stato, perché è tornato varie altre volte, in cui addirittura uno ha voluto stare ospiti a casa mia e non di essere ospitato in albergo, cosa che mi ha fatto moltissimo piacere, naturalmente. Quindi lui era una persona che proprio lasciava uscire i sentimenti quando li trovava. Questo ha fatto con me, ha fatto con un altro suo amico, uno su tutti, Ferruccio Giromini, che era suo amico, da prima di me, è storico, esatto, al quale un pochino devo anche la presenza, naturalmente, perché la prima volta non è che era facile far venire questo personale. No, non è mai facile, lo so per esperienza, gli autori tendono a privilegiare, come normale che sia, rapporti personali e fiducia che si sono costruite nel tempo. Sì, lui proprio, diciamo che soprattutto grazie a Ferruccio è venuto, però poi è tornato anche grazie a me. Ma guarda, sono bellissime parole quelle che ci hai regalato, perché al di là appunto del commiato che è naturale ci fosse a riguardo di questo grande personaggio, riscoprirlo proprio nella sua pasta di umanità, nella sua componente più personale, secondo me è bello, perché se non fosse stato così probabilmente non avrebbe prodotto quel tipo di immagini, quel tipo di stile, quelle cose così semplici eppure così amate da, possiamo tranquillamente dirlo, milioni di persone nel mondo, no? Sicuramente, sicuramente, sicuramente. Davvero un grande quello che ci ha lasciato, noi ti ringraziamo di cuore di questo tuo intervento, davvero, proprio per la sensibilità, piacere nostro e poterlo nominare e ricordare in questo modo. Tu però sei anche protagonista di una manifestazione molto importante, molto bella, che noi seguiamo sempre con attenzione e di conseguenza il nostro è un arrivederci per magari risentirci per parlare della prossima edizione di Rapallugna. Esatto, io lo spero, posso anticiparvi che la figura femminile sarà centrale nella prossima mostra. Oh, che bella anticipazione, ti ringraziamo anche per questo, non aggiungiamo oltre, ci sarà le ire di qualcuno, però avremo modo di riparlarne. Intanto grazie di cuore ancora, buona giornata e buon lavoro e alla prossima. Alla prossima, ciao a tutti. Grazie, ciao ciao. Watch the skies everywhere. Keep looking. Keep watching the skies.